Beh, bisogna capire questa emozione che è stata presa da questi personaggi, da queste persone, ma vediamola a un altro signore che si sta avvicinando, quindi è importante sentire anche la sua versione. Gliate, io stavo in chiamola mia, no? Stavo con una, no? Una mezza sposata, che c'è una situazione stata con un'altra, no? Un bel ragazzo pure lui, no? E stavo portando avanti un certo tipo di discorso, ha capito in che senso, no? A un certo punto, quando stiamo a pariare proprio al nucleo del discorso, se siamo capiti, no? A un certo punto, ne ho proprio tutte le pareti, no? Che cominciano a tremare, proprio così, no? Ah, mi son detto, ammazza da quanto vado cagliato stasera! Invece era il terremoto, lorca miseria.